Mi chiede a treze notizie di l'anti con la web di Ascetta di Juni e la frontiera di nostra isla, con la Venezuela e la Habri, che passano ora di frutta, verdura e piscata per il bordo importato nella quale la birra è ora di una barcadera. Per esempio, la mia presenza è il direttore di Duano, con la rappresentazione della DBB, il signor Abbas, il signor Peter Cotatrà, con la Bai Venezueli, e la rappresentazione portale di noi. Il signor Abbas, il signor Abbas e il signor Abbas, con la bai Venezueli, con la rappresentazione di Stato Falcone, e non è arrivato alla conclusione che la procedura e il documento è arrivato alla parte che non sa qualsiasi procedura e qualsiasi documentazione, che per quanto riguarda la procedura e la facilità del processo. Il processo è che non è stop, è parte di importazione, è parte di fronteira, però poi per avere fronteira c'è una quantità di dialogo nel qualsiasi gruppo che non è importante, è parte di sicurezza, e così non è cambiato per trasformare il suo messo in una procedura, che il documento che il documento che il documento usa, e che il servizio sia in una procedura di rinunione, che non è arrivato alla procedura di un modello del documento che il documento usa, che tipo di stampa usa, ma è chiaro che il documento è arrivato alla condizione di adelantare il rinunione, e che il documento sia in una procedura di rinunione, legale.